Ci siamo tornati, ieri abbiamo saltato il giorno del video, vero? Non so perché è stato, non è vero. Già, già ci sta invitando uno, dai a te. Dai papà, dai. Ecco, già, 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 già. Chi è? Chi è che mi ha scelto il picciolo? Tu? Eh, era una skin leggendaria a 5 genna. Una skin leggendaria a 5 genna, mio cuore. Come state? Iscrivetevi al canale, mettete i commenti. Cliccate sulla campanella per nuovi aggiornamenti. A Dio ragazzi. Allora. Rim. Vieni a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nooo, sono subito caduto ragazzi. Come lo sa? Ma il piccione non vola? No, non so vola. Perché non vola? Perché non vola? Un tocchino però. Come un tocchino? Sì, è un tocchino quello. Ok, il tocchino di ringraziamento. Nooo, mi sono negato. Ma perché mi fa andare di qua? Una buona. Non so se mi qualifico ragazzi. Questo? Sto molto dietro. E adesso due qualificati. Sto due? Vabbè, allora posso dare le padellate. Sto due le padellate a questo. No, mi sono qualificato mentre stavo a dare padellate. Ora, mio figlio, dov'è? Dove sei? Si è qualificato? Sì. Il nostro amico si è qualificato? Sì. Allora, andiamo. Andiamo? Finito, l'è? Si è qualificato, dai. Che diciamo? Ah, eccolo qua. Mi sono andata la goccia. Con il piccino a te, non la compresi. Come on, guys. Ah, sì. E la goccia? Sì, solo che è quella del gioco in me. La goccia in me, che è? Io non so se è una goccia in me. Ah, esatto. Qua, qua ragazzi, ci dobbiamo qualificare per andare in finale. Tutti, tutti, andiamo, 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 andiamo. Mi, mi, mi. Il piccione viaggiatore. Il tacchino fa gu, 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 gu. Perché mi getti le valigie? Mi fai perdere tempo. Hai dato pure al nostro amico, le hai dato la valigiata. Guarda, papà, però, queste valigie. Ma io non le sto laggiando io. E chi le sta laggiando? Poi se le laggio, le vanno a me. Eh, ho perso, mi sa. Non mi sa che non mi qualifico. Sì, mi sa verificato. Pen in tempo. Tu, tu, sei che leggera la valigi. Che leggera la valigi? No. E chi è stato allora? E chi è stato allora? Edo. Ciao. Vediamo chi vincerà tra noi tre. Speriamo uno di noi tre. Andando, proviamo a fare subito la padellata. Dai, dai. Boom. Dai, dai, la padellata. Oh, sì. Quello che mi ha tirato al primo mondo, la padellata, l'ho fatto buono. Bravo, bravo. Bravo. Così che mi va. Così che mi va. E' stato il salvatore. Nooo, mi ha preso il coso. Oh, è l'aligo. Che l'ho fatto. E noi siamo rimasti. Siamo rimasti in cinque. Chi vincerà? No, non la prendo. Non le so utilizzare io le padellate. Oh, no. Boom. Dai, dai. Sì, è caduto. Ma se l'ho bloccato. No, vai, se l'ho bloccato là. Il nostro amico ha perso. Nooo, perché io voglio fare le padellate e prendo la bicicletta? Boomala. No, si è salvato. Papà, aiuta. E come ti faccio aiutare? Aiutami. Aiutami come? Se non mi lasci da te, papà. E io pure sto... Oddio, oddio, come mi sono salvato. Grande, papà. No, scusa, papà. Chi è stato? A darti i padellate? Sì. E io e io. Aspetta, papà, dobbiamo... Aspetta, mo ti metto la mano. No, no, aspetta, no. Ben? Allora. Il codice... E... E... Aggiungi amici. Chi è qua? Pax? No, io non ci sono. Perché? Dai, vieni. No, no, no. Io devo... Perché? Allora, devo abbandonare? Sì. Vabbè, abbandoniamo. Sì. Se ti piace anime e colori, Ecco, bello. Ok, discorso che il digitale di Stabal. Ok, questa qua l'ho fatta io, eh. Stabal poi l'ho fatta io, ma in un altro... In un altro cellulare. Quindi è difficilissimo? Ma qua si fanno... Si vedono delle mappe differenti da Stabal. Eh? Che hai fatto? Com'è quello? Cosa? Com'è io so ultimo. No, so prima. Cosa? Uè, che bella va. No! Ma quando stai là? Cosa? No, da capo. Perché? Quando stai il check? Votola. Ho messo le check? Eh? No! Ma l'hai risiccato? Eh, ma fammi aspetta. No. Non l'hanno vista gli altri. Va bene. Va bene, che era da me. Eh, era da un punto. Va bene. Ciao ragazzi. Ah, devi fare il check-up. Il pugno, mamma mia, il pugno. No, è meglio se ti esce il calcio. Ecco, devo vedere. 5 gettoni, ma è buono. Non faccio un cavolo di niente. Come non ci fa un cavolo di niente? Non faccio proprio niente. Aspetta, no, aspetta. Aspetta. No, va a caso. Aspetta, devo rispettare qui. Ma è che se non c'è la peglia? No, ma è che se non c'è la peglia? Ah, ma è qui che c'è la peglia? Dai, il nostro amico ci sta invitando, vai. C'è pure spaz l'or. Non c'è una spaz l'or, dai. Ah, non c'è una spaz l'or. Un amico in sospesa. Accetta. Pongo, ce l'hai? Pongo, no, Pongo. No, aspetta, no, quello è un altro. L'altro Pongo. E no, Pongo pro. Ah, no. No. Vabbè, la faccio io. Ho deciso di farlo io. Siamo pronti? Vabbè. Sì. Bene, giù, mantenisci. Dai, andiamo. Dai, c'è pure Spark, l'oro. Dai, vediamo se Spark l'oro ci si unisce con noi. L'ultima volta che non mi vado, poi io vado. Ciao. Ciao, ragazzi. Ho detto ciao. Ok. Ho detto ciao. Ciao. Ma che ne sai? Ma fino a quando si possono creare? 10 mappe, non c'è tu. Fino a quando? Ma quando? In che tempo? Domani, romani, commesse, salato. No, no, è come la partita personalizzata. Ci sono tutti i dati. Quanto è questa? Quanto è la prima mappa? E allora che due mappe puoi fare? Sì, l'ho già fatta eh. Io non ho fatto una. La due? Una o due? Oh, non l'ho fatto. Ma non ci sei dove li fai? Sei più bravi, no? Certo. Ma oramai sei diventato un me. Sì, ma non le faccio di più direzione. Come quella che ho fatto. Sì, adesso andiamo a fare quella. Sì, andiamo a fare quella. Sì, andiamo a fare quella. Dai, andiamo. Ragazzi. Faccio aggiungire. Perché non va? Allora. Come siete con me? No, mi ha fatto qualificare subito. Eccolo il nostro. Ha cambiato schieno il nostro amico. Qui c'è del sgatto? Sì. L'ho già fatto. Qui c'è? Eccolo il nostro amico. Vediamo il nostro amico. Perché? Chi sa perché avrà più il vostro manno in sgatto? L'ho già fatto. Non lo fa. Dai, 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 dai. Non lo si qualifica. Ah, no. Ando, dai. Eh. Si è qualificato. È l'ultimo. Perché non l'ultimo si è qualificato? Monaldo. Monaldo. Il nuovo nome di Ronan. Monaldo. Eh, non ce l'ha fatto Monaldo. Ragazzi, Monaldo. Ah, ragazzi. Oggi, ragazzi. Oggi, ragazzi. Ragazzi. Oddio. Vai, tre. Via. Aspettiamo. Aspettiamo. Oh, no, no, no. Mamma mia. Aspettiamo. Dai, dai. Andiamo, andiamo, andiamo. Eh, eh, me, me, dai. Oh, hai fatto ancora il vostro angelo. Perché? Ecco. Abbiamo, dai, superato, dai. Eccoci qua. Hai fatto, hai fatto perdere i coi? Dai. 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 no no verso salutiamo ciao ciao